Benvenuti su EkaGaming, eccoci alla tredicesima parte di CatCast 2 Ovviamente non mi ricordo minimamente quello che devo fare Allora, quelle sono sicuramente le missioni principali Andrei a fare prima questa di livello 70, quella principale e quella centrale di livello 80 Poi farei... quindi diciamo che faccio le due secondarie Ho visto qualcosa a muoversi, niente, era il fumo di 8 dog Facciamo prima fuori questo Forse non ho ancora provato la nuova spada, non me lo ricordo Vabbè, se non l'avevo provata l'ho provata adesso Andiamo, missione di livello 70 Batman, ciao Tenete giù quelle teste veloce, sono il re doge, sì Ho bisogno del vostro video per prendere un criminale Sei Batman Due facce, il maestro di giochi di parole per cani è tornato e è un piano terribile Do sta? Do sta? Si trova nell'accampamento dei cani e sta diffondendo giochi di parole sui gatti tra i soldati Blasfemia Che devo fare? Quindi dovete fermarlo, indossa una divisa da soldato E quello strano è il mob viso intero che nasconde la sua vera faccia Presto, veloci Andiamo Intanto un po' di notizie su CatCast Non so se avevo già dato qualche informazione, forse nel primo video si Allora, a noi si il soldato cane che sembra diverso dagli altri Devo vederli uno per uno? Intanto il primo CatCast era uscito nel 2017 Già l'ho visto, eccolo Il secondo, cioè questo, è uscito nel 2019 E l'8 agosto uscirà CatCast 3 Quindi tra poco uscirà CatCast 3 Già sul sito ufficiale degli sviluppatori è presente un breve trailer Che ci permette di vedere Alcuni Alcune delle scene di CatCast 3 Da quello Allora, devo avervi inviato il Cavaliere Doge Molto bene allora Quindi Guardate la mia faccia Questo è quello che succede quando si cade in un catino di gatti Presto, qui tutti si uniranno a me con i giochi di parole sui gatti Non potete fermarmi Devo combattere? Quell'incidente mi ha dato una gattastica capacità Posso fare questo Te puoi sdoppiare Preparatevi Va bene Intanto, dicevo, mentre farò questo combattimento Tanto per rimanere concentrato Dicevo, già nel trailer è possibile vedere alcune delle modalità di gioco di CatCast 3 Da quello che ho visto Sembra ci sia solamente il gatto come protagonista Quindi non ci saranno più i due personaggi insieme Livello 98 intanto Quindi molto probabile che riuscirò ad arrivare presto al livello 99 Mi sento ancora più forte con entrambi gli schieramenti uniti Ancora una volta Come ancora una volta E niente, vabbè Quindi, dicevo Ci sarà sicuramente il gatto come protagonista C'era una scena in cui sembrava che ci fosse un gatto grigio Quindi è probabile che in alcuni momenti ci saranno degli alleati Ma probabilmente per la maggior parte del tempo si giocherà da soli Quindi a differenza di CatCast 2 in cui i protagonisti sono due tutto il tempo Sembra, almeno dal trailer, che in CatCast 3 ci sia un unico protagonista Fermatevi, vi sfido, fatelo un attimo Ok Eccolo, il Cavaliere Doge è qui Quindi Vieni con me due facce e la prigione ti attende Prigione, vuoi dire? Farò finta di nulla E quanto a voi due? La chiave per la caverna dei pipistrelli Do sta? Ah, ok Ora posso entrare nella caverna dei pipistrelli Andiamo Emo ci vado subito Ok Così, mentre ci vado Posso finire di dire Quello che ho visto nel trailer comunque di CatCast 3 Quindi la Caverna dei pipistrelli Ok, lì Ci saranno combattimenti navali Quindi ho visto che è possibile avere una nave con la quale andare ad attaccare delle isole Combattere contro altre navi E, come detto, sembrava che ci fosse un aiutante Sempre in stile gatto Era un gatto grigio Non so quindi se ci sarà spesso Durante Il gioco O comunque ci saranno solo delle missioni in cui è presente Questo alleato Il gioco, come detto, uscirà tra poco L'8 agosto E sarà disponibile sia per Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Serie S e Serie X Nintendo Switch E al momento sul PC Sembra disponibile solo su Steam Non so perché stavo passando in questo momento Questo non so se lo posso sbloccare Sì Allora, io questo l'ho preso da Epic Store Quindi non saprei dire se Il 3 sarà disponibile su Epic Store Oppure no Andiamo a vedere da quest'altra parte Perché non mi attaccano? Mentre I primi due capitoli Ok, ora mi attaccano Ovviamente sono presenti sull'Epic Store Perché Altrimenti non avrei potuto prenderlo da lì E Credo che siano presenti anche su GOG.com Quindi sono disponibili su diversi store per PC Al momento il terzo Sembra solo su Steam Ma probabilmente poi verrà aggiunto anche su tutti gli altri E Su Steam Se viene preso in preordine C'è uno sconto Mi sembra di averlo visto a 17€ Mentre Il prezzo Reale Sarà di 20€ Quindi Non è altissimo lo sconto Però Comunque se siete interessati Potete preordinarlo Visto che uscirà a breve Tutto ciò per prendere roba inutile Comunque Segrete completate Andiamo a vedere se Almeno una di tutte queste cose trovate Può migliorare Niente Ho trovato tutta la roba di Batman Quindi posso vestirmi da Batman Ma Praticamente non migliora assolutamente niente Quindi ce ne possiamo andare Abbiamo perso tempo Ok Ok l'uscita Non è qua? Ah no Devo passare Ma perché passo sempre? Vabbè Sempre nei momenti sbagliati E di nuovo Ok Direi di recuperare un po' di energie E usciamo Ok andiamo a vedere adesso Le missioni Le altre missioni Qui che cosa c'è? Vediamo Forse questa non ci potevo ancora andare E neanche adesso Ok quindi Niente Dicevo Siamo a livello 98 Quindi voglio comunque Almeno arrivare al livello 99 Per sbloccare Uno degli obiettivi Come stiamo messi a monete Poche Facciamo questa missione Dai Voi due sembrate molto forti Vi dispiace se vi chiedo Di picchiarmi No tranquillo Ti picchio subito Quindi siete interessati Vedete lì È arrivato il periodo del reclutamento Voglio proprio diventare un soldato Sì Quindi ti picchiamo subito Non posso combattere Ma ho una testa dura Voglio sapere quanti colpi posso prendere Che ne dite? Potete colpirmi fino a quando Non raggiungo il mio limite Subito Oh aspettate un attimo Ok ora sono pronto A te si è levato pure tutto L'ho chiesto lui Vabbè Vai Non ne stiamo facendo assolutamente niente È indistruttibile Quindi finito Non ho sentito niente Ad ogni modo Grazie ragazzi Ecco potete avere la mia maglietta Non ne ho più bisogno Vestito da cane Assolutamente inutile Vado ad arruolarmi ora Arrivederci Ciao Livello 99 Ottimo Ecco l'obiettivo Raggiunto Benissimo salviamo Salviamo Inutile pure perché ho appena recuperato le energie Però vorrei Vedere se ci sono altre missioni Perché non vorrei andare a fare subito quella principale Ce ne sono diverse Ma no Facciamo dai Andiamo su quella principale Buttiamoci subito sulla missione principale Dai Eccoci qua Livello 80 Finiamo allora Reclama l'impero Sì entriamo Feudo di Wolfen Ciao Wolfen Manchi solo tu Niente questo sarà Meno facile di quanto Sembrava Perché Perché mi vengono queste idee Dai dai Ecco Non lo so se ci arrivo alla fine Se continuo a sbagliare così No Direi che non ci arrivo Ok recuperiamo un po' di energia E poi entriamo in questa porta Intanto gli autori di CatCast Al momento hanno creato quattro giochi Quindi oltre i due CatCast Uno e due Il terzo che è in uscita Anche un gioco per smartphone Chiamato Slash Hero Che teoricamente doveva essere Già disponibile sugli store iOS e Android Ma cercandolo Sembra che non ci sia Graficamente molto simile A CatCast E dicono che invece Ad ottobre sarà disponibile Anche per PC Ok si inizia con il combattimento Bene allora vedrete perché Mi chiamano Come ti chiamano? Il Labrador Oddio Manco il tempo di capire Che sta succedendo Ok uno in meno Da te ci ritorno dopo Ok si è rimasto solo tu C'è qualche cosa che posso raccogliere? No niente Posso raccogliere questi Non gli sto facendo assolutamente niente comunque Questa che serviva? Non me lo ricordo Vabbè Qualsiasi cosa fosse Non gli ho fatto niente Ok sta un po' cedendo È decisamente più difficile Questo combattimento Ho finito il mana Ma ho notato che Quando è nel cerchio rosso Al cane non gli fa assolutamente niente Cioè vengo colpito solo io Dai che ci siamo quasi Ce l'abbiamo quasi fatta Direi che è andata Perfetto E anche wolf and battuto Quello Non avete nemmeno la spada del re Com'è possibile tutto questo? Perché a differenza di te Siamo in due Anche se siamo la metà praticamente E chi dice che per me non sia così Io ho i miei canin Ma non l'avevo fatti fuori Distruggeteli i metici O io distruggerò Ma l'avevo fatti fuori Ah se ne sono andati Bene Vigliacchi abbaianti traditori La lealtà alimentata dalla paura Non è affatto lealtà Hai perso Basta dai Mi sta per riattaccare? A che serve le lealtà Quando ho me? Si ricomincia? Sconfiggete il vero wolf E non ho idea di chi sia il vero wolf Quello che mi sta attaccando è questo Quindi Per il momento Faccio fuori questo Ok Uno l'ho fatto fuori Ma se è il vero o no Cani e gatti Non potranno mai avere l'unico modo E con la paura Ancora E con la paura Non lo so La vedo male adesso La vedo proprio male male Aller Ma perché ci sono andato proprio diretto da solo Dai che hai quasi perso Dai hai perso hai perso Ok è andata Non puoi Pensavo di poter tenere unito il mio impero con la paura Ma sbagliavo Forse i cani e i gatti non sono così diversi dopo tutto Ok abbiamo vinto Quindi Ah devo parlare con Kirri no Walfen Tu Incredibile Quindi l'unione più forte della forza o della paura Bravo E adesso Elius le tue bestioline sono state sconfitte Hai perso Ho visto questo momento accadere in numeri linee temporali E questa è l'unica volta in cui l'unione trionfa E adesso quindi forse voi siete quelli che stavo cercando Allora la guerra è finalmente finita Un buco nero Benissimo Per tutte le palle di pelo che cos'è Venite da me mie bestioline Mire se non fermiamo Elius ora chissà cosa potrebbe fare Solo un'ultima missione Ok quindi Missione completata A livello 101 Quindi direi che ho superato nettamente il livello 99 Andiamo a salvare A monete Ok Vorrei però cercare Allora intanto l'ultima missione Livello 85 Fattibile Ok ma io volevo prima prendere Ecco Otto Doggo era Lì Cioè io avrei voluto fare prima tutte le missioni secondarie Che non vedo neanche più Otto Doggo migliora le armi Come stiamo messi Io Livello 44 Lui 51 Quindi decisamente Io Perfetto Vediamo se posso migliorare la sua No Oro insufficiente Ok Usciamo Volevo vedere Non vedo altre missioni in giro Cioè non vedo nessun'altra missione che posso andare a fare Ritorniamo da loro Non ci sono altre missioni Ok qui ce n'è una di livello 80 Qui niente E a questo punto andrei a fare quella di livello 80 Quindi da qui Vediamo No Ok Quindi se seguo Sì Vediamo se via mare Ok via mare Andiamo Facciamo fuori questi Ingresso abbaiante Sì Entriamo Ma questi li posso far fuori adesso Sì Ok andiamo a vedere livello 80 Mi vedete finalmente Devo sapere perché sono bloccato qui Potete aiutarmi Dai proviamo Quindi sono bloccato qui da sempre Voi siete i primi a passare Dai vediamo Vedete quel segno Credo di essere bloccato qui per quello Devo cancellarlo? Sento che ha la forma di una palla Indicherò la sua area Approssimativamente Dov'è? Ok Devo andare laggiù Andiamo Passiamo sempre via mare Ok Ok Ciao Questi qua sopra Ce n'è un altro? No Ok Trovi una palla Nell'area indicata Trovi O do trovo Che devo fa' Eccola la palla Prendi una vecchia palla Quindi Devo ritornare da quello? Vediamo se mi conviene Passare da sotto No Passiamo sempre via mare Che facciamo prima Ciao Credo che Sto quasi per morire Ricarichiamo un po' di energia Vediamo se qui ci avvicino qualcosa Per salvare No Quindi andiamo Sulla fiducia Eccoci Tieni Un attimo Questo è Miurei i soldati l'hanno trovato Si sta nascondendo qui Che è successo? Fatti danni Sicuro E tu giovane Non devi aver paura di me Sono qui per salvarti Cos'è? Nella zampa Una palla Il tuo giocattolo preferito Vieni qui Lo terrò Al sicuro per te Mi spiace per i tuoi genitori Adesso allontaniamoci Da questo caos Non preoccuparti Ora mi prenderò Io cura di te Ok Per tutti i giocattoli Quello era il mio ricordo dimenticato Quindi ero un orfano E un re mi ha adottato Dove sei? Oh aspettate Guardate il segno Ha cambiato Dobbiamo fare qualcosa No Devo andare da qualche altra parte E c'è anche uno strano forziere lì Perché non lo aprite? Ma perché non lo apri tu? Cioè Ah Cappuccio da ninja Vabbè Meno male Non è uscito un mostro Darò una nostriottina Per scoprire altri indrizi Sarò qui immagino Ok Missione completata A livello 102 Qua non posso fare Dai Rifacciamo pure un altro livello su Hanno usato un'altra presenza magica Ho bisogno del vostro aiuto Andiamo Sì 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 Ogni modo vi indicate un posto Trovatelo Quanto è lontano Non tanto Andiamo Ok Ci siamo quasi Eccoci tu Benvenuti al mio negozio temporaneo di elmi Come posso aiutarvi? Mi serve l'elmo Cercate un elmo speciale Aspettate qui Freghiamoci tutti gli elmi Andiamoci Quindi questo elmo qui Giurei Si è messo da solo Mi sa che ci devo combattere Mi sa Ho la sensazione Dove vai? Vedete ve l'ho detto Fareste meglio Inseguirlo Va bene Aspetta Fammi andare a piastra moneta Prima Tanto già lo so Che devo andare a fare un combattimento Eccolo Ma esce un mostro enorme Ecco Immaginavo Immaginavo Dai Sei rimasto solo tu Ok Ti arrendi? Raccogli l'elmo Benissimo Ho visto sto coso Che saltellava qui Che Direi che lo faccio fuori Ok Andiamo a riportare l'elmo Eccoci Ti è Pia di l'elmo Porgi l'elmo Oh questo Un altro ricordo Ecco Questo elmo È tuo La tua forza Ti ha fatto guadagnare Il grado di capitano Sapevo che avevi il potenziale Per combattere Per la nostra causa Ricorda Io ti accolgo Tu sei speciale Rufus La tua lealtà è per me Quello era un altro Mi ricordo Quindi pare che il mio nome Come sia Rufus E che fosse un formidabile soldato Gattastico Ok Quindi puoi uscire No E guardate il segno Sta crescendo Quella strana scatola È tornata di nuovo Andiamo a vedere che ci sta Elmo della tempesta Ok Cercherò ulteriori indizi Sarò qui come al solito Va bene Missione completata Livello 90 Facciamo pure livello 90 E sarà l'ultima missione Di questo video Ok Dentro una tomba Andiamo a vedere Quanto è lontana Neanche tanto Ci si può arrivare Passiamo via mare No via mare Ci si arriva Io sto andando Sì Ok Ci dovremmo essere Ma tomba è a livello 35 Quindi è abbastanza semplice Caverna Prendilo Ok Eccola lì Ci arriviamo subito Ah Questa era Quella propria raffica Benissimo Se mi stavo fermo Era meglio Tanto lo sappiamo Che non mi basterà Prendere queste e uscire Perché devo esplorare Tutta la caverna Sicura E riprendere tutto Non la vedo bene Quindi subito Farne fuori uno Ok Ah Fatti fuori due insieme Ottimo Ok Possiamo prenderla Prendi il bastone Ok Che è successo? Perché ci sono due Ah posso uscire O da qui O dall'altra parte Benissimo Benissimo Livello 103 Ottimo Ok andiamo Usciamo dall'altra Uscita Che non so dove porta Però Usciamo da qua Niente Ok adesso Adesso salviamo Non perdo tempo A rientrare nella caverna Quindi la faccio via acqua Quindi andiamo via mare Te Te lascio stare Ok ci siamo quasi Però quelli Li voglio prendere Ok Monete prese tutte Andiamo Porgi il bastone Un attimo Questo bastone Vabbè un altro ricordo Mio re Uno dei maghi itineranti Gli ha regalato un bastone Oggi hanno detto Che il potenziale Per fare magia Ok dai Cosa ha fatto Domande Sta chiedendo Il segno sulla sua testa Mio re Dovete dirglielo È qui Rufus Ragazzo mio Non puoi fidarti Di quei maghi Dovremmo dare un'occhiata Al bastone Vieni dammelo Fidati di me Lo terrò al sicuro Per te Ok Mi hai sempre ascoltato Vero? Un attimo Quindi quel ricordo Mi ha dimostrato Che so usare la magia Oh Penso che non sia ancora finito Credo che il segno Stia formando Un qualche simbolo Ok Possiamo raccogliere Un'altra cosa Armatura Da scout Devo saperne di più Tornate a trovarmi Sarò qui Vabbè Anche perché Do hai Vediamo che livello È la prossima missione 95 Però direi che Vado a salvare Se trovo Un punto di salvataggio Che non trovo Quello Sì Probabilmente È il più vicino No Forse è questo È il più No Qua non c'è niente Me lo sono immaginato Eh sì Credo che sia il più vicino Quindi andiamo Vediamo Più o meno Lì Ok Quindi giriamo Prendiamo questa Ok Ci siamo Vabbè facciamo fuori questo Salviamo E quindi Per questo video Chiudiamo qui Ho fatto quindi La seconda Missione principale Quindi fatto fuori anche Wolfen Quindi Eliminati entrambi Ci sarà poi Questa qui Che credo che sia proprio La missione finale Che non vorrei fare Ah ecco Qui c'è una missione Secondaria Quindi ne è comparso un'altra Quindi cercherò di fare In questi video Tutte le missioni Secondarie Le Varie caverne Quindi cercare di Prendere Tutti gli obiettivi Prima di andare a fare Quella missione Quindi Intanto La caverna dei cactus No Penso Il prossimo video Ripartirò quindi Con la zona bandita Con Ancora la missione Per liberare Chiunque ci sia Lì dentro Non so se Sia un'idea buona Oppure no Però Sicuramente la prossima missione Quindi Sarà questa Intanto vedo che ho Altri Altre monete Da poter usare Quindi andiamo ancora Da hot dog Vediamo se Posso Migliorare ancora La mia arma L'altra No ma Non ce ne frega niente Mi rinforzo Solo io Andiamo a salvare A posto Ok Direi quindi Con questo video Chiudiamo qui Scrivetemi sempre Nei commenti Che cosa ne pensate E se c'è qualcosa In particolare Che vi interessa vedere E ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti